Botte dell'abbadante a un'anziana disabile. Detenuti pubblicano tre video dalla cella. La ASL prova ad abbattere i tempi di attesa. Ben trovati al TG, al termine del processo di primo grado scaturito dalle indagini dei carabinieri di Alatri, un abbadante di 49 anni è stata condannata a tre anni di reclusione per maltrattamenti, botte, schiaffi e continue umiliazioni a danno di una cinquantenne portatrice di handicap che avrebbe dovuto accudire ma la quale avrebbe invece provocato uno stato di sofferenza fisica e morale. Due detenuti del carcere di Frosinone sono stati denunciati per aver ripreso e pubblicato in rete tre video con un telefono cellulare indebitamente nelle loro disponibilità, contestualmente scattata una perquisizione con il sequestro non solo di quel telefono ma anche di altri apparecchi in altre celle. Accordo tra la ASL di Frosinone e 12 strutture private della provincia, commissionate 8.600 prestazioni diagnostiche aggiuntive con un investimento di mezzo milione di euro per cercare di abbattere i lunghi tempi delle liste di attesa, specie per tacche ed ecografie. Operazione della Guardia di Finanza dopo un'indagine per truffa con il super bonus nel settore dell'edilizia, sequestro preventivo di 2 milioni e mezzo di euro a due aziende di Sora e della Valle di Comino, alle quali viene contestata l'emissione di fatture inesistenti e la cessione di crediti di imposta da parte di ignari condomini per lavori di ristrutturazione e riqualificazione mai eseguiti. Importante progetto della Banca Popolare del Cassinate, presentato dal presidente Vincenzo Formisano, al via d'ottobre un corso di educazione finanziaria in collaborazione con la Fondazione Global Tanking. Dalle ore 20 di venerdì 20 settembre aprirà i battenti a Frosinone Alta all'edizione 2024 di Street Food d'autore con 40 stand enogastronomici e isola pedonale in piazzale Vittorio Veneto, Corso della Repubblica e Piazza Turriziani, sino a domenica 24 settembre. I carabinieri eseguono un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di una coppia di Cassino, un 37enne e una 41enne, accusati di aver trasformato la loro abitazione in una casa dello spaccio di droga. Due distinte operazioni antidroga della polizia grazie al fiuto del cane Ondina che scova 60 grammi di cocaina in un appartamento, hashish, marijuana e anfetamine in un'altra abitazione, arrestati un uomo e un giovane. Il colonnello Maurizio Petrarca lascia l'incarico di comandante del nucleo investigativo operativo del comando provinciale dei carabinieri di Frosinone per assumere l'incarico di comandante della compagnia di Pesaro. A risentirci, alla prossima edizione.